Ciao adorabili amici, Kaladesh è entrata di prepotenza in Historic, è la prima deck tech che porto ovviamente il mazzo Marvel, il mazzo per il quale tutti, tutti avevano un hype smisurato, un mazzo cattivissimo, cattivissimo. Questa è la versione che ho portato in streaming il primo giorno di Kaladesh, appena uscito ho fatto la diretta, abbiamo giocato un po' questo meraviglioso mazzo Marvel e fa cose, fa cose, perché potenzialmente Marvel ti permette di fare di quarto uno sgarbato Ulamog o addirittura Ugino, fa cose molto cattive. Allora, come funziona? È un deck energy, il nostro payoff è prodigio ovviamente, questo artefatto leggendario costa 4 dice Ogni qualvolta un permanente che controlli viene messo in un cimitero ottieni 1 energia, lo tappi e paghi 6 energy e guardi le prime 6 carte del tuo mazzo, puoi lanciare una magia scelta tra esse senza pagare il suo costo di mana, metti le altre in fondo al tuo grimorio in ordine casuale. Capite che vedere 6 carte non è poco e noi possiamo giocare questi nostri payoff. Uno è anche il simbiosi di legno torto, che possiamo lanciarlo agilmente per vedere altre carte e cercare ancor meglio questo 4x di Ulamog. Come facciamo energia? È vero che il prodigio ci permette pian piano di aumentare energia, ma abbiamo dei generatori di corrente migliori di questo prodigio. Uno è armonizzarsi con l'etere, che per un mana ci fa cercare una terra base, la riveliamo e la aggiungiamo alla mano e poi otteniamo 2 di energy. Poi abbiamo fulmine imbrigliato, che per 2 mana ci dà 3 energy e poi possiamo pagare un qualsiasi ammontare di energia per fare altrettanti danni a una creatura. Lo possiamo utilizzare sia come rimozione, e visto che in realtà creiamo tanta energy e il nostro serbatoio è sempre pieno di vitalità e voglia di spaccare tutto, riusciamo a togliere creature molto grosse con il fulmine per soli 2 mana. Ma allo stesso tempo per 2 mana instant possiamo aggiungere 3 energy, ed è una delle carte che, insieme ad esempio al servitore del flusso e al enigmatico del tessilegno, ci permettono potenzialmente di fare prodigio di quarto e attivarlo già con 6 energy. Il servitore ci aiuta a rampare a costo di energy però, ma intanto è un 2-2 a 2 che ci dà 2 energy. Questo enigmatico del tessilegno è un artefatto a 2 che per 2 mana ci dà 3 energy e ci fa guadagnare 3 punti vita. È molto molto rilevante contro Iagro. Iagro, visto che questa lista non è ancora ottimizzata per un meta, contro Iagro facciamo fatica. Quindi la vita che guadagniamo con l'enigmatico, tanta roba. Non è quello che risolve la partita in questi matchup, ma ci aiuta a sopravvivere. Per avere il tempo di fare prodigio è slappare giù un bel Ugin che rimuove board, oppure un Ulamog arrabbiatissimo. Abbiamo poi degli eccezionali drop a 3. Allora, 4 per di raffinatore fuori legge. Questa carta è stata bannata ai tempi. E poi la confrontiamo a Uro, va bene. Comunque il raffinatore per 3 mana è un 3-2. Quando entrano in campo di battaglia peschiamo una carta e otteniamo 2 energy. Poi abbiamo il virtuoso dei turbinanti. Anche questo drop a 3 è un 2-3. Quando entra nel campo di battaglia ci dà 3 energy. Se paghiamo 3 energy mettiamo in gioco un Tottero 1-1 volante. Anche questa carta qua ci serve per sopravvivere contro quei maledetti aggro. E lo possiamo attivare a velocità istantanea. Tra l'altro può essere anche una Wink. Ribadisco, generiamo tantissima energy nel corso della partita. Se non vediamo il prodigio lui può menare comunque, mette giù tanti token. E poi ovviamente giochiamo Temur e cosa facciamo? Non lo giochiamo Uro. Sarebbe da matti non giocare Uro. Uro per 3 mana è un 6-6. Vabbè ma Uro, ma ve lo sto a raccontare cosa fa Uro. No, l'avete capito. Ci va Uro, lo dobbiamo giocare in questa lista. Ora, non è una lista particolarmente spicy, non è una lista particolarmente diversa da quelle che si trovano online, ma è un deck che non vedevo l'ora di provare. È il primo che ho giocato e quindi ho voluto portarvelo qua su YouTube. In descrizione trovate il link per esportare la lista su Magic Arena con agilità. Trovate anche i link per i miei canali social. Mi raccomando, seguitemi su Instagram e Twitter. Instagram in particolare è il social dove vi aggiorno quando vado live su Twitch. Quindi non perdetevi la prossima diretta su Twitch. Sempre lunedì sera alle 9 e mezza, più alcuni giorni a caso che escono nel corso della settimana, ma prometto che aumenterò il numero di dirette. Lo giuro, lo farò. Mi sto organizzando per... Oh! Ciao, Mala. Ma in generale io sono un enorme fan dei mecha titani. Ma proprio enorme. Ciao, Loller. Buonasera. Non ci tira giù niente di particolarmente rilevante. Noi qua peschiamo bene. O almeno abbastanza bene. Ciao, Ism. Buonasera. Ok. Attiviamo Marvel di quinto. Che va bene. Ci toglie Ugino. Ci toglie Ugino. Mancano due energie e le mettiamo qua. Di quinto, eh, Marvel. Non ora. Giriamo con Refiner. Che deck gioca l'opponent? Chat, che deck gioca? Annavar00, grazie mille per il follow. Benvenuto nell'adorabile famiglia. Perché se gioca counter, forse è meglio fare ora Marvel. Modern mi piace, ma l'ho smesso da un paio d'anni. Ciao, Fabio. Grazie per il saluto. Yes, Kaladesh. E' un mazzo standard. Se fai Marvel però non ti può macinare. Sei un meteorite. No, male. Malissimo, allora. Facciamo Marvel ora così ci evitiamo i counter. Esperduministoric. Tanta roba. Emil Rog. Ma allora non benissimo, eh, Marvel ora. Try Kaladesh. Però ora è Simic. Ok. Che cosa sta succedendo? Giochiamo. Servant. Primo pick Chandra, Antares, non male. Buonasera, Antares. Non male. Io amo Chandra. Guarda se l'hai scritto giusto, però, eh. Try Kaladesh. Perché mi pare sia try Kaladesh maiuscolo. Va bene. Noi abbiamo l'attivazione di Marvel. Della meraviglia. La facciamo nel suo turno. va bene. Va bene. Arriva Opt. Try Kaladesh. Try Kaladesh. Sì, scritto con T e K maiuscolo. Tutelage. Questo milla come un maledetto. però Chandra è più forte. Uro giù ed entrerà anche Uro. Ve lo spoilerò. Growth Spiral. Fai tutto quello che devi fare. Grazie, John. Questo l'ho sbagliato e... Oddio, no. Eyes of Pollen. Afam. E che fai? Non castiamo Ulamog. Castiamo Ulamog. Questo si attiva... Dopo dieci anni circa. Growth Spiral e anche Ace, no? Liliana è la più bella, vero? Ciao, Riddens. Temur Energy. Sì, sì, sì. Adesso vi faccio vedere la decklist. Sì, sì. Sì, sì. Vabbè, questa la teniamo. Questa è una signora pescata. Qua siamo in un mirror. Hai ragione, MTG. Devo smetterla. Stiamo giocando Marvel. Scaccomatto. Grazie mille per il follow. Benvenuto nell'adorabile famiglia. Potreste fare un risposto a scombo dove associate determinate carte a figure politiche. Farebbe ridere. Sto con Ajani, sì. Con le liste giocano il counter. Potrei anche fare un agile Rogue Refiner, eh. Gug 1998, grazie mille per il follow. Benvenuto nell'adorabile famiglia. Grazie per il supporto. Proviamo a fare Rogue Refiner. Ok. Abbiamo cinque Energy. Ciao, Zyrael. Ciao, Zio Plutonio. Ok. Uro, noi facciamo Marvel, però. Ciao, Scacco. Grazie per il follow. Oh, baby, a double. Ok. Sì, la posso attivare. La può attivare anche lui. L'hai fatto. Ok. Ok. Draftino stasera no Omnifrenza Basta istantanei Ciao a tutti Ciao stondo E la madonna raga ma che cazzo Giochi 4 istantanei nella tua vita E la madonna raga ma che cazzo Attacco prima io Stava per pescare Marvel Se lo attivavo prima mi poteva togliere Con Ulamog eventualmente Ugin I Mecha Blue siano buoni in Pioneer Purtroppo vedono molto poco gioco Purtroppo Va bene Se non mi esilia Ulamog Con Marvel Ha perso Easy Easy Oddio abbiamo Marvel Ma non abbiamo modi di Fare energy se non lui E Ulamog in mano Sì Wow ovviamente io parlo Delle cose Quanto content creator Parlo di Ciò che è ufficiale Shion Ho fatto una lista Con Outcome E dopo la proviamo Però io ho fatto due partite E ho detto Ma che cazzo sto facendo Della mia vita Spell table è tanta roba Questa non so se tenerla Proviamo a mulligare Gesù cribbio Ma che c***o Non posso neanche più parlare Alla chat Stefano mi hai fatto molto ridere No è la lista vecchia quella Pescheremo terra Anche se peschiamo terra Ci manca un cacchio di energy Drog Grazie mille per il follow Benvenuto Nell'adorabile famiglia Grazie per il supporto Non lo so a quanto sta Meglio tardi che mai Dicevano dalle mie parti Tengo light open Spell table è una figata Voglio farci anche contenuti Con spell table Magari per commander Cosa così E in più vogliamo organizzarlo Su discord Con i mod Con i mod Ci pensa Opponent con un nickname Impronunciabile È vero che nessuno ha riscattato il dissing Ma io lo vado a dissare con It doesn't obey It cooperates with me Che sleeve consiglieresti per Va bene Va bene Va bene L'hai fatto Attacchiamo Su discord Eh beh visto il periodo storico che stiamo vivendo Secondo me ci sta a investire Energie in spell table Perché il cartaceo Perché il cartaceo è il cartaceo Io uso le dragon shield Vai tranquillo Scacco Mi fa piacere L'hai 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 fatto U la Mog U la Mog Pam Terra direi che ne ha abbastanza Quindi togliamo i due pippoli Che così Giriamo questi agili 12 danni Riesco anche a riattivare Marvel Pensa un po' te Ma che deck ci gioca L'opponent Be Bello Ma incassa sti 12 L'ho detto con un po' troppa foga È vero Forse sì Mazzo sbroccato Vediamo se becchiamo un mono red Raga È vero Le nuove ultra pro Sono ritenute molto fighe GG GG Il deck Marvel Che carta Eccezionale Grazie a tutti